Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Camion perde un carico di paglia sulla rotatoria, traffico bloccato sulla Pergolese Emergenza frane in tutto il territorio provinciale, un altro cedimento importante segnalato a Serrungarina di Colle al Metauro Dopo l'emergenza neve, l'evacuazione per la bomba per i fanesi potrebbe scattare un nuovo allarme, questa volta dallo spazio per la caduta della stazione spaziale sulla Terra Uscirà a fine mese Fate Vobis, il nuovo film in dialetto fanese del regista Secchiaroli e questa volta la storia è vera Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Cominciamo dalla cronaca perché questa mattina c'è stato un incidente, un camion che su una rotatoria si è ribaltato e ha disperso tutto il carico Vediamo il servizio di Lino Balestra La velocità troppo sostenuta nella rotatoria o uno sbilanciamento del carico oppure un cedimento strutturale del rimorchio Qualunque sia, per una di queste ragioni 32 balle di foraggio sono cadute dal rimorchio, capovolgendolo completamente e sparpagliandosi sull'asfalto E parte di esse anche nella scarpata sottostante della carreggiata Nella rotatoria, lungo la Pergolese, all'altezza dell'innesto con la strada provinciale 18 per Monterado Il camion a rimorchio della ditta Giacchini di San Lorenzo in campo, che si occupa di lavorazione foraggi ed essicazione di erba medica Ha perso tutto il carico alle 9.20 di questa mattina, paralizzando completamente il traffico Il camion proveniva dalla sede dell'azienda e si stava dirigendo verso il casello autostradale di Marotta Da dove poi avrebbe continuato il suo viaggio verso Milano, destinazione finale del foraggio Sul posto sono intervenuti subito le pattuglie della polizia locale di Trecastelli Che hanno chiesto immediatamente il supporto dei carabinieri di Belforte E così hanno potuto regolamentare la circolazione particolarmente intensa sulla strada provinciale 424 a quell'ora del mattino Il rimorchio del mezzo che si è completamente ribaltato nell'incidente è stato portato via E le bale di fieno che non si sono disgregate nella caduta sono state recuperate e caricate su di un altro mezzo della stessa ditta e riportate in azienda Notevoli i danni e le ripercussioni economiche per la ditta Giacchini, quantificabili in oltre 10.000 euro Nessun altro mezzo però è stato coinvolto nell'episodio e nessuna conseguenza fisica è stata riportata dal conducente dell'auto articolato Questa mattina gli uomini della Guardia Costiera di Ancona insieme agli ispettori croati hanno controllato alcuni stocchi ittici Per la commercializzazione del tonno rosso, del pesce spada e dei piccoli pelagici E hanno sequestrato circa 50 chili di prodotto ittico di varie specie presso uno stabilimento di vendita all'ingrosso Situato nel porto Dorico e commissionato una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro Il prodotto ittico è stato rinvenuto nelle celle frigorifere privo di etichettatura e di documentazione commerciale Che ne attestassero la rintracciabilità Il pescato sarà smaltito da una ditta autorizzata Le attività di controllo invece da parte degli uomini e donne della Guardia Costiera Saranno intensificate durante tutto il periodo delle festività pasquali E adesso il problema delle frane La provincia di Peso Urbino è interessata da numerosissime frane Ci sono strade che sono ancora chiuse e che ci vorrà del tempo prima di poterle riaprire Oggi siamo andati a Serrungherina di Colli al Metauro per vederne un'altra di frane Guardate È lunga la lista dei comuni che in queste settimane ha dovuto confrontarsi con il dissesto idrogeologico del proprio territorio Lo stanziamento di 400 mila euro della provincia per alcune strade fortemente compromesse E la richiesta del governatore delle Marche di riconoscere alla regione lo stato d'emergenza Che consentirebbe così di avere fondi extra per gestire la situazione contingente Sono sicuramente un segnale ben chiaro ma che non risolve definitivamente il problema In questo quadro poi ci sono comuni in provincia fortemente penalizzati come Pergola Che ha visto la paralisi quasi totale di importanti vie di comunicazione E chi invece ha avuto frane smottamenti in porzioni di territorio non vitali Che non hanno stravolto il flusso della circolazione locale Uno di questi comuni è Colli al Metauro dove il sindaco Aguzzi ha sì una manciata di situazioni da dover monitorare Ma di secondaria importanza mentre l'unica situazione più compromettente e pericolosa È già oggetto di un intervento a cantiere aperto Abbiamo diverse frane che interessano anche alcune strade Che sono in parte chiuse o parzialmente chiuse Sulle quali comunque ci attiveremo già nelle prossime ore Su alcune vie come penso a Gambarelli qui a Calcinelli Penso alla strada che va a Ripalta su in alto vicino alla zona di Pozzuolo E Barni se penso a via Monticelle su Lungarina o a via Ciavarini a Montemaggiore Sono tutte strade secondarie che anche se sono chiuse comunque lasciano una via di accesso alternativa Cos'è che ci preoccupava più di ogni altra cosa? Quella che vediamo proprio qui alle mie spalle Qui c'è una frana, siamo dentro il centrovitato di Calcinelli Che rischiava di, diciamo così, compromettere proprio la vivibilità e la permanenza qui di alcune famiglie Questa frana è stata monitorata immediatamente, è appena avvenuta Abbiamo subito interessato il demanio regionale Perché questa collina alle nostre spalle è proprietà del demanio E con nostra grande soddisfazione il demanio non solo ha immediatamente risposto con un sopralluogo Ma ha già, come vedete, iniziato i lavori A distanza di 10 giorni da quando è stata segnalata questa situazione Ha già iniziato i lavori, i lavori sono a buon punto Siamo tutti rassicurati da questa situazione che viene sanata E quindi non sarà più un problema Poi qui, proprio vicino, abbiamo nella strada nella quale siamo C'era a 50 metri più avanti un'altra frana Che in questo caso compromette la viabilità interna qui a Calcinelli E l'abbiamo già rimossa come amministrazione comunale Come dire, tutto sommato una situazione che abbiamo gestito bene Che non è stata e non è particolarmente drammatica Ancora cronaca, 100 mila euro di bottino raccimolato in 56 blitz A colpi di trappano ai piedi di porco Ai danni di circa 200 parcometri in varie regioni d'Italia Tra cui le marche sono finiti sotto accusa tre romeni Uno di 35 anni, gli altri due di 25 Ai cui gli uomini del nucleo operativo della compagnia di Osimo Hanno notificato oggi in carcere Un'ordinanza di custodia cautelare poco prima della loro scarcerazione Gli addebiti sono di associazione per delinquere finalizzata a furti aggravati E adesso le vostre segnalazioni Che come sempre ben sapete sono per la nostra redazione fondamentali Le vostre segnalazioni ci portano nel quartiere del Vallato a Fano Perché? Perché questa mattina ci avete segnalato queste tracce Queste tracce importanti su tutto il parco del Vallato Su questo prato pubblico, su questo giardino pubblico E quindi il passaggio di un mezzo pesante che ha completamente rovinato il manto erboso Il responsabile è stato individuato e multato Si tratta del conducente di un mezzo contenente un cestello sollevatore Con grosse ruote utilizzato dalla ditta che sta tinteggiando l'esterno della struttura del centro commerciale del Vallato Che si trova adiacente alla chiesa Che anziché passare sulla parte asfaltata Per accorciare un po' il percorso È passato direttamente appunto sul prato Che tra l'altro era reso lento dalle piogge dei giorni scorsi Sprofondando di alcuni centimetri nel terreno Come mostrano appunto le immagini girate questa mattina Ieri dopo l'intervento della polizia locale Che è stata attivata dai residenti della zona La ditta è stata multata secondo le normative vigenti E adesso è obbligata al ripristino del verde Che è stato danneggiato Ripristino che avverrà già dalla giornata di domani L'assessore del Comune di Fano, Samuele Mascarin Interviene sulla mozione presentata in Consiglio Comunale Dalla sua parte politica Inerente ad una possibile fusione totale o parziale Di ASET con altri soggetti privati L'ASET, su questa argomentazione Voi avete fatto un comunicato Con l'intento preciso di ribadire alcuni concetti Che per voi sono estremamente importanti e basilari Sì, Sinistra Unita che è la forza politica Che rappresento in giunta Ha presentato una mozione Per ribadire un concetto che per la verità Era stato già espresso anche in passato E quello cioè di mantenere anche in futuro La gestione di ASET in auso Cioè avere un'azienda pubblica in mano al pubblico Siamo convinti che questa sia una proposta Che incontrerà un'ampia maggioranza Trasversale probabilmente in sede di Consiglio Comunale E che sia un modo anche di rispondere Almeno queste sono le nostre intenzioni Ha un po' di uscite che sul fronte peserese Abbiamo riscontrato nei mesi scorsi Da parte di esponenti del mondo industriale Dirigenti di azienda Che in qualche modo hanno non solo rilanciato Ma anche dato come ineluttabile Il fatto che invece ASET Vada incontro a processi di fusione Di inglobamento con soggetti terzi Noi riteniamo invece che questo sia un piccolo gioiello Che debba rimanere per il nostro territorio Assolutamente pubblico Un bene comune per la città di Fano Per i cittadini fanesi In questo senso rispediamo un po' il mittente Alcune polemiche che il centro-destra Ha voluto attivare nei confronti del sindaco Serie A cui confermiamo il nostro sostegno Ma anche la nostra fiducia Perché in questi anni è stato possibile Anche grazie al suo impegno Raggiungere un primo importante risultato Che è stato quello della fusione Tra ASET Holding e ASET SPA Ora ci sono altri passaggi Che vedranno in futuro anche collaborazioni importanti Probabilmente anche con soggetti privati Ma a maggior ragione è importante in questo momento Esplicitare e mettere nero su bianco A partire dal Consiglio Comunale Che ASET è pubblica e rimarrà pubblica Perché è un bene della città di Fano Ed è un bene che deve rimanere in mano ai cittadini fanesi Domenica al Palazzetto dello Sport di Fano C'è il gran finale di un progetto Che si chiama Sport & Go Ed è organizzato dal Centro Sportivo Italiano Finna settimana intenso per il CSI Con una bella attività Con tanti ragazzi e tanti studenti Sì abbiamo una bellissima iniziativa Infatti domenica concluderemo l'iniziativa Di attività motoria Collegata a Sport & Go Cioè l'attività motoria Continuerà presso le scuole Gli istituti qui di Fano Però l'abbiamo domani Concluderemo questa attività istituzionale Del Centro Sportivo Italiano Che si chiama appunto Sport & Go Per l'Under 12 Dove i bambini hanno avuto modo di confrontarsi Chiamiamo così All'interno dei propri istituti Con i nostri educatori qualificati In tre discipline Che sono calcio, cinque Pallavolo, mini volley Per la precisione E mini basket Quindi domenica Convolgeremo tutti i bambini Che hanno vinto le varie fasi Ma anche coloro che sono rimasti fuori Perché per noi prima di tutto Deve essere una festa Una festa per questi bambini Per questi istituti E per i loro genitori E quindi costruiremo un villaggio Grazie anche a delle collaborazioni Un villaggio dello sport Dove questi bambini Giocheranno appunto a queste tre Discipline E faranno anche altre iniziative Di carattere artistico Divertente Quindi avremo modo Di creare all'interno del palazzetto dello sport Un paese di giochi Dove loro potranno cimentarsi nuovamente In questi sport che hanno fatto durante l'anno E che faranno anche nel proseguo dell'anno scolastico E poi chi sarà un po' più bravo Diciamo così Noi diciamo sempre Chi è un po' più bravo Potrà partecipare alle fasi successive nazionali Del CSI Tutti i bambini Verso le 15 Presso appunto il palazzetto dello sport Potranno venire come dicevo prima Tutti coloro che hanno partecipato Presso gli istituti di Bellocchi Sant'Orso Nuti Fenile Potranno venire tutti questi bambini Ma anche i loro amici Perché per noi Come dicevo prima È importante il divertirsi E giovedì prossimo esce al cinema A Fano Al Politeama Il nuovo film Del regista fanese Henry Secchiaroli Che è qui con noi Buonasera Buonasera Marco Buonasera Henry Il film che si intitola Fate Vobis Fate Vobis Allora Fate Vobis Fate voi Fate voi Ed è un film interamente in dialetto Quasi tutto in dialetto Sì diciamo che Dagli sbancati Che hanno creato questo filone dialettale Lo continuiamo Lo continuiamo sempre Con tanta passione Quest'anno ci siamo inventati Una storia Ispirata a una storia vera Quindi È anche bello per quello Perché comunque Stiamo crescendo notevolmente Con 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 il livello Delle storie poi raccontate Per il pubblico Sicuramente questa è una storia Che piacerà Allora questa mattina Avete fatto la conferenza stampa Di presentazione E ce l'avamo anche noi Quarta fatica Per il regista Henry Secchiaroli Da giovedì 29 marzo Sarà nelle sale Fate Vobis Un film Sempre amatrice dialettale Che parla Della storica rivalità Tra le due città Fano e Pesaro Con un consolidato Casta di attori Provenienti tutti Dal bacino Delle compagnie dialettali Locali E scaturito Manco a dirlo Dal sodalizio di penna Con Ermanno Simoncelli Col quale ha iniziato Fin dalla serie Degli sbancati Questo film però Si discosta Completamente Dai precedenti film Più attrazione comica E grottesca Della sceneggiatura Per imboccare Decisamente La tanto decantata Commedia all'italiana Dove si intrecciano Situazioni paradossali Con drammatiche Realtà quotidiane Come la perdita Del lavoro E la crisi economica Che spingono I protagonisti A compiere Gesta tragicomiche Mi fai 5? 5 come 50? No 5 come 5 5 euro Allora fate Vobis Più che altro Più che Vobis Fate voi Sì sì Fate voi Sì venire a vedere O no questo fianzi Sì Cioè vi invito A vedere questo film Perché è bellissimo Abbiamo alzato il livello Ironicamente Carmine Al cinema Ha scritto 13 nomination Allora Solo per far capire Il livello nuovo Che abbiamo comunque Messo in campo L'eterna lotta Fanno peso L'orgoglio Il campanilismo La crisi economica E quindi C'è un mix Di Come dire Di ingredienti Che fanno attualissima La storia Quindi da vedere assolutamente Il cast Un cast Un cast Con elementi Ormai consolidati Per te Il cast È sempre Il nostro Cast dialettale Sempre ormai Sempre più bravi Sempre più Poi attori nuovi Irene Guidi Daniele Borghi Che sono due attori giovani Che sono per la prima volta Sullo schermo E in dialetto Quindi Bello Venite Come si dice Spesso la realtà Supera la fantasia Ed è proprio Da un fatto di cronaca Avvenuto in Piemonte Che gli sceneggiatori Hanno preso lo spunto Per la stesura Dei testi Di questo film Se non c'è Allora un sodalizio Quello con Eri Secchiori Ormai Inscendibile Anche questa volta Mi fa molto piacere Perché questo Tra l'altro È un film Che Mi ha divertito molto Mi ha fatto molto piacere Farlo Perché Vabbè Adesso a parte L'amicizia con Con Harry Anche perché Fino all'anno scorso Ragionavamo di procedere Con Il terzo film Sugli sbancati Eravamo molto indecisi Per la verità Anche sulla Sulla storia Come fare la sceneggiatura Eccetera Poi c'è stato È capitato Che Proprio in un bar Davanti a un caffè Ci siamo messi a parlare Di una Di altro E lui mi ha detto Che aveva letto Un articolo Sul Mi pare con Via della sera Su un avvenimento Di Non mi ricordo la città Comunque in Piemonte È una storia Che aveva Tutte le caratteristiche Per essere La classica Commedia All'italiana Perché In facendo Una Il Dignalette In facendo Una bella Commedia All'Afanese Sulle basi Proprio Delle storie Grottesche Delle commedia All'italiana E così è nato La pellicola È stata girata Completamente Nelle campagne Fanese Ed in città Con non pochi Risvolti Tragicomici Appunto Anche durante Le riprese Dove la finzione Alle volte È stata scambiata Per realtà Innescando Alcune reazioni Un poco Disarticolate In chi Non ha capito Di trovarsi Nel bel mezzo Di un set Cinematografico Vedi scena Della rapina In banca In viale Vittorio Veneto Insomma Ma aiuti O non Ma aiuti Allora intanto Vi invito a rimanere Vi invito a rimanere con noi Perché dopo il telegiornale Vedremo sette minuti In anteprima assoluta Di questo film Backstage Eccetera Eccetera Quindi sono Insomma Tanto per farvi un'idea Poi c'è questa cosa Della rapina Che veramente Un po' Ad è stato un po' Di allarme Sì Che sembrava vera Sì assolutamente Ad è stato un po' Di allarme Ci siamo Inizialmente Un po' preoccupati Perché Adesso Come facciamo Ma poi Con l'aiuto dei vigili Con l'aiuto della polizia Con l'aiuto Dei carabinieri Abbiamo gestito Al meglio La cosa Però ci sono successe Delle cose paradossali Giornalisti che ci chiamavano Giornalisti che arrivavano Posso assicurare Che sono arrivate Segnalazioni Anche al nostro numero Dicendo C'è una rapina in corso Noi Poi sapevamo Abbiamo risposto Poi nel mezzo di via Veneto Comunque vicino all'ospedale Una strada di moto di passaggio Vedere Un rapinatore Che fugge in macchina Non è bello Magari Tra chi Magari non percepisce Che c'è un set cinematografico Tra l'altro Macchina da presa Grandi Cast tecnico Ma la gente a volte Vuole vedere Solo quello che vuole vedere Capito Non va oltre Qual è che è stato girato Questo In quanto tempo L'avete girato Questo è stato un film impegnativo Molto impegnativo Perché l'abbiamo girato L'abbiamo iniziato A fine di settembre E siamo andati avanti Per tutto l'inverno Fino a gennaio L'ultima scena L'abbiamo girato Il 3 febbraio Perché Per i problemi logistici Per i problemi Di condizioni meteo Perché anche lì Sai Ci sono sempre Delle incognite Capito Poi collegare Magari una scena Che giriamo Un mese prima A collegarla Con la scena successiva Che magari Giriamo due mesi dopo Collegare lo stesso tempo Non è stato facile Però Di grande soddisfazione È stato un set Magnifico Da quel punto di vista Anche con il rapporto Con gli attori Con tutte le persone Che ci hanno lavorato Bene Allora Visto che Tra pochissimo Vi faremo vedere Queste immagini Assolute In anteprima In anteprima assoluta Intanto Vi invito a rimanere qui con noi Perché abbiamo ancora Un paio di notizie Una delle quali Potrebbe essere anche Utilizzata Come magari spunto Per il prossimo film Perché parleremo Di un satellite Non si sa bene dove cadrà Però dalle ultime indiscrezioni Pare che Addirittura Possa cadere Qualche cosa Insomma Possa cadere Anche dalle nostre parti Intanto Questo sabato Questo sabato Si balla Sulle notte Di Gioacchino Rossini A partire dalle ore 18 Le ragazze dell'Olimpia Ginnastica Cucurano Si esibiranno Lungo Il piazzale Della Libertà Il carro allegorico Di Fano Sarà animato Dalle coreografie Delle giovani ballerine Coordinate Dalla istruttrice Silvia Tecchi Nella mattinata Invece I caristi fanesi Lavoreranno sul carro E dunque Si potrà ammirare Dal vivo La tecnica Della lavorazione Della carta pesta E adesso parliamo Appunto Del rientro Della stazione spaziale Cinese Tingong 1 Che è previsto A partire Dalla prossima settimana Le previsioni Basate Sulle osservazioni E sui calcoli Della traiettoria Indicano per ora Il periodo compreso Fra il 28 marzo E il 4 aprile Ma la situazione Si evolve continuamente Quella prevista Per il rientro Non è una finestra fissa Ma viene Aggiornata continuamente E diventerà Sempre più piccola Addetto all'Ansa Ettore Perozzi Che con Claudio Portelli Lavora nell'ufficio Dell'Agenzia Spaziale Italiana Sulla consapevolezza Dello spazio Rispetto alla sua quota Iniziale Di 360 chilometri La stazione Tiangong 1 Si era abbassata A 250 chilometri Il primo marzo scorso E negli ultimi 23 giorni È scesa Di altri 30 chilometri Fino agli attuali 220 Continuerà naturalmente A scendere E soltanto Tre giorni prima Si potrà stabilire Il giorno dell'impatto Nell'atmosfera Ha detto Perozzi Sono moltissime Le incertezze Da considerare Aggiunto Perché queste Dipendono Non soltanto Dall'assetto Ma dalle condizioni Dell'atmosfera Secondo il sito nazionale Della protezione civile Anche l'Italia Potrebbe essere interessata In particolare La zona che va Dalle miglia Romagna Marche E sud Italia Insomma Dopo l'emergenza neve L'emergenza bomba Adesso l'emergenza Potrebbe arrivare Dallo spazio Noi nel soggetto L'ISBAC-T3 C'è una bomba Però Forse avevamo Come dire Previsto Il futuro Quindi Vedremo Adesso speriamo Insomma Di non dover parlare Veramente di emergenze Dallo spazio Perché noi ci abbiamo Scherzato comunque Quando ci chiedevano Adesso cosa succederà Noi abbiamo scherzato Dicendo ma un meteorito Oppure lo sbarco Degli alieni Ma insomma Ci siamo andati Vicini Beh a parte gli scherzi Adesso dopo il telegiornale Come avevamo detto C'è lo speciale Fate Vobis Poi un altro speciale Dedicato al veglione Dei Balocchi Che si è tenuto Domenica scorsa In un ristorante A Montecucco E poi L'ultima Anzi no La quinta puntata Dell'album Del grande freddo Perché l'ultima Andrà in onda Sabato sera Grazie per essere stati con noi Per aver seguito Occhio alla notizia Noi ci vediamo domani mattina Alle 7.30 in diretta Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie a tutti